Sfuma il sogno della scuola sovranista alla certosa di Trisulti a Collepardo, in provincia di Frosinone, l'associazione Dignitatis Humane Institute di Benjamin Orwell, vicina al guru americano ultranazionalista Steve Bannon, ha riconsegnato le chiavi del monastero, lasciando la gestione dell'antica abbazia sui monti ermici. È stato l'epilogo di una lunga battaglia legale, che è finita fino al Consiglio di Stato. Il presidente della regione è pronto a restituirla a tutto il mondo come spazio aperto e di cultura, collaborando con il Bibat. Una notizia che aspettavamo da tempo, ha commentato la capogruppo della lista civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio, Marta Bonafoni. Ci sono grandi possibilità di sviluppo, dicono all'unisono il sindaco di Collepardo, Bustiglieri, il presidente della comunità montana degli ermici, Achille Bellucci e Sara Battisti, consigliere regionale eletta in Ciociaria. Adesso, oggi, l'ADHI chiude la sua permanenza qui a Tresulti. Ovviamente, per quanto riguarda, se vi permetto di dire una parola personale, io sono stato fatto fuori di questo monumento, senza mai essere condannato da nessun tribunale per nessun reato. Ogni mio diritto è stato calpestato per arrivare a questo punto. Come penso voi saprete, io ho partecipato al bando con regolar autocertificazione. Dunque, se ci fosse la mendacità, e assolutamente non c'era, avrei sperato di presentarmi davanti al tribunale penale a giustificare il mio condotto. Questo non è ancora successo. Questo non è ancora successo.